Un ritorno a casa del maestro Vangi e delle sue opere. Così viene definito dall'amministrazione pesarese, ma soprattutto dalla famiglia dello storico artista. 69 sculture e 53 opere grafiche, questo l'immenso tesoro che i Vangi hanno deciso di donare alla città di Pesaro e che questa mattina sono state trasportate in pescheria, dove, per fine novembre, si realizzerà una mostra temporanea in attesa del completamento del museo a Palazzo Mosca, lì dove proprio Vangi mise la sua firma con le grandi opere presenti nella piazza d'ingresso. Oggi siamo qui alla pescheria, dove sta arrivando tutto il materiale, tutte le sculture, tutte le opere che in qualche modo sono state donate alla città di Pesaro e l'obiettivo è riuscire entro il mese di novembre ad inaugurare una mostra. Ovviamente sarà una mostra temporanea, però piuttosto che mettere le opere all'interno di un magazzino, di un qualsiasi deposito, abbiamo deciso di metterle da subito in mostra. Non so se riusciremo a mettere in mostra tutte, perché sono veramente tante, però cercheremo di dare un senso a questa mostra che vogliamo organizzare, ovviamente in maniera provvisoria e temporanea, in attesa che poi sia completato il museo che stiamo portando avanti. Ci sarà un vero e proprio museo dedicato al Maestro Vangi, di cui tutta la città sicuramente sarà orgogliosi e a guadagnarci sarà l'opportunità che i turisti avranno nel momento in cui verranno a visitare la nostra splendida città. Un grande gesto di generosità da parte del Maestro Vangi e naturalmente di tutta la famiglia. Già con Giuliano lavoravamo da tempo all'ipotesi, sperando naturalmente di poterlo fare con lui in vita, ma di donazione di gran parte delle sue opere alla città di Pesaro, in nome del fatto che lui si sentisse, ormai pesarese da decenni e anche dei segni che in questi anni avevano iniziato a lasciare materialmente nella città, dalla scultura della memoria in piazzetta Mosca, che ormai è diventato un angolo iconico della città, ai gabbiani, all'Oder, alla libertà e al movimento in piazzale Matteotti, fino anche alla mostra importante e decisiva svolta qui qualche anno fa. Quindi, insomma, questo è un atto di generosità, una conseguenza del legame che si è creato con la città e con quanto un artista mondiale, come è stato ed è tuttora chiaramente Giuliano Vangi, nell'immaginario rispetto alla scultura, al disegno e non solo, ha deciso di legarsi insomma per sempre all'asse di Pesaro. Un dono alla città come da volontà del Maestro, un ritorno a casa delle opere che testimonia nel rapporto di Vangi con Pesaro, come racconta suo figlio Marco. Un dono suo che ha sempre voluto fare, sicuramente, lui è vero che è di Firenze, berberino di Mugello, cresciuto a Firenze, ma insomma la sua città d'adozione è stata sicuramente Pesaro e a Pesaro ci teneva tantissimo e ci teneva appunto che le sue opere fossero proprio stabilite qui in maniera permanente. È un dono nostro perché è fatto veramente con il cuore, insomma, sia per il rispetto della volontà del babbo, sia per il piacere proprio di mettere a disposizione queste cose che sono veramente eccezionali dal punto di vista artistico e per noi di famiglia affettivo insomma.